come si giocherà nel modulo, appunto è soltanto l'atteggiamento mentale che dovremmo avere al massimo quindi mi interessa questo, mi interessa trasmettere soprattutto questo perché bisogna assolutamente vincere Senti, le buone sensazioni di Torino, chiederemo comunque dalla prova, per l'antitratti, è stata convincente tirando sicurezza per domani? No, mi dà sicurezza e certezza che la squadra è ancora coesa e non si è fatta in tali si è fatta in tali, si va sentata la mentalità dopo un periodo francamente pessimo in termini di risultati l'ultimo periodo, quindi sono molto fiducioso e l'importante è tenere quell'atteggiamento mentale unito, coeso e determinato che la squadra ha riportato ancora di più